bellissimo lo stacco, voglio chiedere subito qualcosa al Presidente, com'è l'emozione di vedere una città in festa, com'è? molto bello, è un'emozione incredibile, abbiamo lavorato per questo, quindi questa è la sera del Cesena, è la sera dei tifosi e è la sera dei ragazzi, quindi è fantastico Presidente, io volevo leggere una cosa, perché un tifoso nel pubblico mi ha dato una poesia e leggo solo un verso, lo vogliamo far leggere a lui se no? C'un ticca campedelle, un campionette eccezionale, l'ho letto bene? Più o meno sì, riconosco lo stile di Jean-Martin un campionato eccezionale che però arriva da altri campionati eccezionali, dalla Serie C alla Serie A, cioè un progetto che punta molto in alto anche per la prossima stagione noi lavoriamo e abbiamo ottenuto questi grandi risultati per merito di tutto, quindi siamo molto contenti, è innegabile questo insomma, questa salvezza per noi significa salvare tutto il lavoro che in questi anni abbiamo fatto, è forse stato il risultato più difficile da ottenere Io posso fare una domanda da giornalista? Ci mancherebbe Cioè, volevo tranquillizzare i tifosi sul fatto che i pezzi pregiati, anche se sono tutti dei grandi campioni, i pezzi pregiati della squadra saranno qui anche l'anno prossimo Ma quali sono i pezzi pregiati di queste squadre? Tutti! Ah ecco! Allora rimangono tutti! Rimangono tutti! Sono solo 35, quanti sono? 3 sono anche pochi! Anzi, ne aggiungiamo qualcuno così Siccome stanno scappando, li mandiamo a sedere Li mandiamo a sedere e poi li chiameremo dopo sul palco, li chiameremo tutti quanti dopo sul palco